Musica Ok, ciao a tutti, noi siamo Taranta Sound, un gruppo che è nato circa sette anni fa Siamo molto orgogliosi di rappresentare il genere di Taranta calabrese e non solo, stiamo girando la Calabria, abbiamo aperto i concerti ai Taranta Project, Eugenio Bennato, Otello Profazio e ultimamente abbiamo aperto il concerto a Clementino Noi diciamo grazie a tutti quelli che ci seguono, grazie di tutta l'accoglienza che ci state dando, grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti